Il mio canale Cosa ci facevi sul mio canale? Te l'ho già detto, volevo solo qualche consiglio sul montaggio dei video, nulla di più Rebecca, dimmi la verità Che altro vuoi? Mi sono stufato di quelli come te che vogliono soltanto una sponsorizzazione, capito? Non sono come loro Bello, io mi... Sì, io mi... Mi sono iscritto, le gambe... Digo, contro la base, che è indietro Sì! C'è un caldo! 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 Grazie! Meno male che non siamo stati mossi! C'è un caldo! Oh! Facciamo prima la prova, vediamo se la qualità è... È buona! Ciao! Ciao! Senti che... Oh, abbracciamci così proprio! Ti giuro sembrava Monterey che saranno... Allora... Sì, io mi conoscete, sono Nico E lui è... Non lo fare... Dai, seriamente! Lui è la sociale identità in più... Dai, serio! E lui è Giovanni Guerrera Ciao a tutti ragazzi! Ciao ragazzi! Allora, questo era il nostro video, perché questa cosa la vedremo dopo, no? Quindi... Questo è The Walking Spam, diciamo una piccola si cosa fa cagare... E' una prova che volevamo fare perché stiamo facendo una cosa molto figa... Ossia quella di... Sembra... Sembra che sia Michael Jackson! Vabbè! Spero che vi sia... In realtà volevamo fare qualcosa di più cinematografico! Esatto! Volevamo! E vogliamo continuare a fare qualcosa di più cinematografico! Ancora di più cinematografico! Questa era una prova! Così si parla qualcuno nel caso... E' un esperimento! E' un esperimento! E' un esperimento! Ecco dai, su! E niente, allora lui si è occupato di tutto praticamente... Dalle riprese... Alla regia... Quindi se il video non vi piace... Andate sotto il suo... Allora, proprio sul profilo Facebook! Solo su... Giovanni Guerrera! In descrizione metto i link dei vari... Dei profili... Dei profili Facebook! Dei profili Facebook! Per... Per insultarlo! Ok, ma sono la responsabilità! Esatto! Lui è il... Bellissimo... Premio Oscar... Attore... Vabbè! L'idea essere anche mia voi! Sì sì! No, lui è stato... L'attore... Uno dei... Dei tu... Quello che faceva! Quello bello! Insomma! La Christine Stewart delle due! Insomma! Che vedo! Ok! Ehm... Niente! Noi siamo... Questo era il video! Noi vogliamo continuare a fare roba... Che per noi è figa! Che noi consideriamo figa! Vabbè! Vabbè! Diciamo più che altro originale! Dai! Eh! 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 Per noi! Per noi! Speriamo che lo sia anche per voi! E... Niente! Magari ci saranno anche altri lavori! Adesso stiamo preparando! Dai su diciamo la verità! Facciamo il money! Per i soldi! Per le donne! Per le donne! Beh! Soprattutto per le donne! Vabbè! I soldi portano donne! Non è il tuo caso! Comunque no! Dicevo! Ehm! Quindi niente! Se vi è piaciuto tanto tanto questo video! Iscrivetevi al canale mio! Soprattutto! Soprattutto! Poi! Esatto! Poi diciamo! Se proprio avanza tempo! Al canale di Giovanni! Che davvero ragazzi! Lo ringrazio tantissimo! Si è occupato di tutto lui! Vero! Andate sotto il suo canale! Ha fatto anche altri lavori sul suo canale! Giovanni Guerrera! Lo metto in descrizione! E poi soprattutto vorrei ringraziare il mio migliore amico! Che lo conosco da una vita! Da 13 anni! E per ringraziarlo vorrei tanto tanto che voi vi iscriviate al suo canale! La sociale intente più! Ah! Ho quasi finito! Ho quasi finito! E niente! Io ringrazio tutti i collaboratori che hanno appunto collaborato! Soprattutto il bimbo a caso random 1! Giusto! Mettiamo la clip del bimbo a caso random! Esatto! Guardate come cade bene! Fantastico! È una cosa triste! Avevamo molte risorse! Molte! Molte! Molte risorse! Soprattutto è costato 0 euro! Sì! Perché ci abbiamo anduto il culo che lui aveva un po' le cose! Ah! Certo! Invece è giustamente lo stabilizzatore rubato! Ah! No! No! Grazie! Grazie al tuo figlio! Esatto! Che si è fatto rubare lo stabilizzatore da lui! Grazie a tutte le comparse da Giulia Grilli a Rebecca! Un saluto a Giulia Grilli! Un saluto a Giulia Grilli! Che è questa qui? Dove è lei? Ciao Giulia Grilli! No! No! Salutiamo tutti! Salutiamo! Allora! Mi-Foods! Mi-Foods! Fabio! Marco Di Grazia! Giovanni Barrera! Alexander Kota Sadik Kota in realtà sta perché Rebecca Molino Valentina Guidi Poi Zoe Ragazzi link in descrizione Di tutti quanti e noi ci vediamo al prossimo video Dai sulle tutorial